. Geremias Rodriguez, sorpresa dalla ex. Ritorno di fiamma in vista? . Grande fratello Vip, Geremias Rodriguez. In lacrime, la sorpresa della ex. Geremias Rodriguez non è certo passato inosservato in questi primi 30 giorni passati nella casa più spiata dagli italiani. . Difatti il giovane ha fatto molto discutere in queste settimane per alcuni episodi, che hanno creato un vero e proprio polverone sul social. Cosa è successo? In pratica il fratello di Belen Rodriguez ha litigato furiosamente la scorsa settimana con Simona Izzo, arrivando anche ad offenderla. Motivo per cui il giovane è stato criticato un po' da tutti. . E tra gli indignati cè stato anche il marito della Izzo, che sui social ha chiesto alla produzione del GFVip di prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo argentino. Tuttavia quest'ultimo un provvedimento l'ha già preso. . Quale? Ha annunciato di aver querelato il fratello di Cecilia perché ha offeso gravemente la moglie. Come andrà a finire questa faccenda? Intanto Geremias Rodriguez è tornato alla ribalta in queste ultime ore grazie alla sua ex fidanzata. . Infatti, Rodriguez Jr. ha ricevuto dalla ex uno striscione aereo con su scritto. E io ci sono ancora. Sara. Un messaggio, nemmeno a dirlo, che ha commosso e colpito molto il concorrente. Ma chi è questa ragazza?. . Geremias Rodriguez, il messaggio della ex fidanzata al GFVip. Molti fan del grande fratello Vip sui social hanno subito pensato che la ragazza in questione potrebbe essere la ex fidanzata storica di Geremias Rodriguez, Sara Battisti. . . Quest'ultima non è nuova nel mondo dello spettacolo e della tv, avendo partecipato nel 2014 a Miss Italia, classificandosi al quinto posto. I due hanno avuto una relazione abbastanza lunga. . Ma la ragazza non è mai stata dimenticata dal bel fratello di Cecilia e Belen Rodriguez. . Difatti il giovane ha parlato diverse volte della sua ex agli altri concorrenti del reality show condotto da Ilari Blasi, asserendo di averla rivista proprio qualche giorno prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani. . E in quella occasione ha rivelato di aver capito di essere ancora innamorato. A questo punto lo stesso sentimento pare nutrirlo anche la giovane visto quali parole ha usato sullo striscione aero che ha fatto recapitare al tormentato giovane di origini argentine. . I due potrebbero tornare insieme una volta terminato il reality VIP di Canale 5? Intanto è certo che Geremias Rodriguez è stato piacevolmente colpito da questa sorpresa visto che è scoppiato in un pianto ininterrotto. . . E chissà che il grande fratello VIP non decida di fargli una sorpresa nella prossima puntata. Ovviamente i fan della trasmissione lo sperma. . 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